oh forza eh bravi dai dai già ho visto un attimo si man che qualcuno dai speriamo è importante tocca avere la reazione subito ma piove piove sempre al ferrari c'è un cazzo spalla 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 non lo so lo vorrei rivedere ma non c'è niente secondo me non c'è niente dovrei rivedere che già sembrava cascata con la spalla spalla secondo me già sta la cascata spalla spalla non lo so eh ma da quanto ho capito se sono toccati dopo cioè sembrava già in caduta secondo me già sembrava in caduta fammelo rivedere ma regà con la mano già stava volando chissà se lo prende furbizia la spinta oddio la spinta tocca vedere la spinta che si tocca la cavia non capisco l'ha spinto ma non capisco perché si tocca la cavia se è pure stupido ma non so se gli è cascato dopo perché comunque stava a dire che eh forse con i tacchi forse l'ha colpito dopo la va rivedere attenzione attenzione cioè lo vorrei rivedere pure io perché la spinta forse è eccessiva ah poi quando cascata però è inutile no vabbè che sti cavoli quello ah ok ecco perché si tocca la gamba per quello però non te lo darà mai così fai vedere la spinta prima devi vedere la spinta la spinta la spinta fai vedere la spinta non lo dà no no io lo dà rigore rigore invece si attenzione attenzione non so però che cosa ha fischiato non so che cosa ha fischiato però sinceramente che chi lo tira? chi lo tira? si cazzi si cazzi è pesante è pesante non uno dalla stagione ma è pesante chi lo tira? ma fai glielo dire a Kvara fai glielo dire a Kvara l'ha segnato Ipolitano ma a mezzo così te prego Polità te prego è triste è già triste Ipolitano però mi tocca mi tocca tirarlo te prego te prego attesa che te disintegra tirarlo bene forte io parco 2 parco 2 ma classico 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 pararigori lo vorrei rivedere parco 2 parco 2 o c'avemo una media di rigori sbagliati da 2 anni a sta parte che forse è la peggiore dovrebbero fare la sta statistica c'è una squadra che ha sbagliato più rigori di noi da 2 anni a sta parte Politano ha tirato Politano ecco rivediamo il rigore eh non era malino ne oddio però una mozzarella sempre il suo piatto sempre si piava la parola ma una mozzarella gli ha tirato cioè ha rimbalzato a terra quindi quanto hai tirato lento io boh i rigori mi hanno tirati forti ma come se come prima si rischi una sbaglia di 2 in una partita un tasci sua un simen gente che non c'avemo rigoristi e posso dire un'altra cosa non c'avemo meno male meno male dilo meno male che questa è una pippa quello gli ha messo pure una bella pallata esterna non sappiamo dire i rigori ma pure cioè questi ci stanno a far vedere no regà non sanno dire i carci d'angolo con l'Inter ci avevamo avuto più noi di carci d'angolo un cazzo l'avessimo battuti bene pure adesso con un carci d'angolo battuto mezzo pietoso no 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 guardate ci manca l'euro goal ci manca l'euro goal che lo fanno contro di noi bravo Maret rimaniamo un po' positivi anche se è difficile anche se è difficile rimanere positivi regà regà poi con l'Inter forse sto dicendo stregonerie ma è anche colpa nostra che l'abbiamo perso tutta quella negatività parla dell'arbitro di so guzzati eh vabbè sempre a piagne dai dacco ci stava però meglio ci stava il colpo di dacco per cosa non è mano anche se non è mano devi continuare a pressare non era mano e anche se era fermo qua mi incazzo e questa è la mentalità che tocca a cambiare però è uguale se non fisca tu continui a ritornare indietro e pressi i dettagli regà ste cazzate mo me sto a parlare pure troppo su ogni singolo dettaglio ma sono quelli che fanno la differenza però cazzo vai come viene va bene cazzo finalmente famo un cross come viene bravi dai va bene va bene va bene va bene va bene all'ultimo serve qualcosa in più bello bello sempre il professore che c'ha la visione c'è quello che farei io cazzo e bravo Victor cioè ma è difficile mettere una palla del genere ma è che solo il prof lo sa fa dai cazzo bravo 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 eh grande Mario Rui oh concentrati ma tocca continuare perché non va bene l'uno non tocca fare la fine della Lazio ai tempi desari che poi c'è 1-0 poi incominciatevi a gestire gestire cosa sono sempre nervoso io che voglio una gran reazione ma cioè l'uno a zero e poi gestione non mi piace lanciami che vara vai 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 no sei cagato mannaggia ma chi sei io Mario Rui meglio ti beca ma te lo devi aspettare questo che te sfingono cioè te metti un attimo non fai un tocco te metti un attimo che allontani e ti riamina prima cioè ma che cazzo c'era c'era un botto di spazio per tirare politano entra dentro segui lo l'ha seguito bravo politano bravo politano cazzo vai tira va bene ci sta ci sta ci sta va bene cazzo finalmente ci sta lo devi fare con l'inter mo per ora non ci abbiamo più la palla e quando ce l'abbiamo avuta l'abbiamo buttata proprio speriamo che una fase ok loro non stanno a costruire niente ora giochiamola meglio che devi fa Meret ok ci andiamo a chiudere non mi è piaciuta sta uscita ma parco due ma da Meret da Meret che non stavamo a costruire bene va bene Kim va bene Kim va bene Kim vai da solo no va bene oh oh è rosso questo parco due parco due è rosso eh sì oh ma scherzavo ma che fai 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 il palla all'ultimo sotto la doccia sotto la doccia mo tira con la politana tira schifo vai Robo va bene guarda che va Rapoli va bene bravo Simana che applaudi tutti ah peccato peccato avvolgiamoli stanno uno in meno famoli i corre va bene male qui eh male qui c'è un po' stesso palla sterile tira no no bravo Don Belè Don Belè ha delle verticalizzazioni invece di dalla Di Lorenzo che tutti pensano di Dalla Di Lorenzo no cazzo ciuchi sempre costi sempre costi piatti la stiamo a vince francese quello forse ti sei dimenticato un attimo che la stiamo a vince quindi non è che mi sbaglio e sbilano addirittura Osimè e Simeone insieme assolutamente no ci posso stare col cambio però qua se non fai il 2 qua un calcio di punizione può succedere tutto sappiamo tutti adesso vince 2 a 0 bello niente non tira no 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 beh per coerenza e per qua c'è ragione in teoria regolamento nuovo in teoria sempre in rigore te prego sì bellissimo bello bene ma non benissimo che dite 2 a 0 è venuto su un calcio di rigore e loro stanno in 10 come fai assegnata vero devi fare più devi fare più quindi ci prendiamo questi tre punti perché ci prendiamo questi tre punti bellissimo momento con lo stadio che che omaggia vialli dobbiamo fare di più venerdì 20 e 45 Napoli Juventus belli a tutti dirighamma ma